siamo a mannata la folla di mannate con il signor cataldolo toro avete vissuto momenti di grande paura con questa bomba d'acqua che ha colpito la folla come è andata sì certamente ci siamo spaventati perché insomma non è una cosa di poco conto anche perché non è stato uguale alle altre lei dirà le altre sì certo perché noi in un mese ne abbiamo avuto quasi 5 5 inondazioni roba da 20 30 centimetri non ci ha spaventato ma quella di ieri sera non si fermava continuano a salire quando abbiamo visto arrivare un metro e vento un metro e trenta normale tutti spaventati ha invaso tutte le parti basse delle case tutti i garage sono tutti quelli che vede aperte lei sono stati invasi dall'acqua e poi arrivate in pochi minuti ha detto è stata in dieci minuti no beh dai dieci minuti il problema è che ci mette dieci minuti poi ci mette giorni andare questo è il grande problema che abbiamo